Buonasera a tutti, benvenuti in BTC No Academy, sono Giampaolo Monti e vi do il benvenuto questa sera anche con la ripresa annuale dei webinar, in realtà il primo è cominciato ieri. Il tema che vedremo questa sera è la prima parte degli effetti che le armoniche producono sugli impianti di distribuzione di energia elettrica. Questa prima parte riguarda essenzialmente la parte più teorica, mentre nella seconda vedremo gli effetti relativi proprio nel dimensionamento degli impianti e nel dimensionamento dei vari dispositivi, in particolar modo delle protezioni e la loro reazione che hanno quando gli impianti sono affetti da armoniche. Nello specifico il programma di questa sera è una veloce carrellata del perché siamo qui a ragionare di armoniche e che cosa sono. Dovremmo vedere poi un po' di elettrotecnica che ci consentirà di valutare, di darci degli strumenti, definire dei parametri sostanzialmente che poi utilizziamo proprio per verificare sugli impianti quando abbiamo presenza di armoniche e anche darne un valore, darne un peso e quindi gli indicatori di distorsione armonica e come li interpretiamo. Da ultimo anche una nota relativa a cosa riportano le norme, in particolar modo al 648 che è quella che riguarda la progettazione e l'installazione degli impianti elettrici in bassa tensione in merito alle armoniche. Quindi perché parliamo di armoniche? Ha senso conoscerle e quindi investire del tempo e della formazione su questa tematica oppure non ha senso? E se dovesse avere senso? Le armoniche cambiano le regole di progettazione degli impianti elettrici e qui dobbiamo diciamo conoscere nuove formule o applicare dei coefficienti correttivi oppure possiamo solo archiviarle nella cultura personale di un fenomeno ma di fatto possiamo non interessarcene? Le risposte sono semplici, ne parliamo oggi più che mai perché ha senso conoscere la tematica in quanto pur non cambiando le regole di progettazione degli impianti elettrici in realtà ne influenzano il funzionamento e quindi i risultati. Quindi piaccia o non piaccia se vogliamo essere dei buoni progettisti dobbiamo tenerne conto, capire soprattutto quando preventivamente queste possano generarsi e quindi cercare di mettere in atto e lo vedremo tutta una serie di considerazioni per minimizzare gli effetti. Ma c'è anche un problema direi a posteriori della progettazione cioè quando si verificano molte volte dei malfunzionamenti di qualche dispositivo e bisogna capirne le cause. Oggi è forse più difficile rispetto agli anni precedenti proprio perché come vedremo vi sono un gran numero di dispositivi che generano queste armoniche sui nostri impianti e quindi dobbiamo capire come individuarle e come limitarle. Guardate questo oscillogramma è come vedete un'abitazione con una fornitura da 6 kilowatt quindi vedete la tensione che è questa sinusoide potremmo definirla praticamente sinusoide anche se andiamo a vedere che qua nella parte sommitale non propriamente non lo è ma guardate la corrente che ha un valore efficace di 7 ampere come è deformata non è certo paragonabile a una sinusoide è una funzione periodica sì perché direi che questa parte è praticamente la simmetrica di questa quindi è una funzione periodica ma non ha niente a che vedere con una sinusoide. Il valore efficace 7 ampere questo è il valore efficace di tensione. Andiamo a vedere cosa succede dal punto di vista, le butto qui poi vedremo come nascono questi spettri, andiamo a vedere invece appunto quello che è definito lo spettro delle armoniche e vedete che siamo sulla tensione e quindi è lo spettro delle armoniche di tensione. Siamo in presenza di una tensione di un'armonica di tensione che è 100% sulla 1 che vedremo essere la fondamentale e poi vi è una discreta presenza discreta presenza di armoniche ma tutte a valore estremamente vedete estremamente basso. Il TdH di tensione che vedremo appunto che cos'è è intorno è il 2,3%. Per il momento memorizziamo solo questi dati poi spiegheremo che cos'è. Se andiamo a vedere il discorso della corrente invece è completamente diverso. Quindi anche qui abbiamo la nostra fondamentale armonica di ordine 1 ma poi vediamo che vi sono presenti delle armoniche di ordine pari e le dispari che hanno dei valori insomma la terza, la quinta, la settima, la nona abbastanza considerevoli. Abbiamo sempre un valore efficace della prima armonica al 6,5 e tenete presente che era 7 il valore efficace della complessivo che abbiamo visto e comunque un tasso di distorsione armonica del 39,4 per cento quindi un valore che come vedremo è sicuramente sensibile. Adesso abbiamo applicato un altro carico. Applichiamo un carico che ci porta la corrente a 20,7 per esempio un pompa di calore a inverte, rete elettrica e vediamo che la forma d'onda sembra di tensione innanzitutto è rimasta pressoché identica. Quella di corrente è cambiata. È cambiata, lo vedremo poi allo spettro dell'armonica, che sembra, è sempre molto lontana da una solida, ma lo sembra un po' più simile. Ma quello che mi preme fa notare è che, guardate, abbiamo un valore efficace di 20,7 della corrente, scusassi, della corrente ampere e abbiamo un picco di corrente che è intorno ai 50 ampere. Vedremo poi come interpretarli questi dati perché se fossimo in un regime perfettamente sinusoidale sappiamo che il rapporto tra il valore efficace e il valore di picco è la radice di 2, cioè 1,41 e quindi dovremmo essere intorno ai 28, se ho fatto i conti a mente adesso, dovremmo essere intorno ai 29, 30 ampere di picco, non 50 come viene rilevato dall'oscilloscopio. E vedremo anche in questo caso come interpretare i dati. Anche in questo caso vedete che il fattore di distorsione armonico della tensione, eccoci qua, non è praticamente cambiato. Il fattore di distorsione armonico invece della corrente rispetto alla condizione di prima era dal 37,9, se non ero siamo arrivati al 58. Guardate com'è composto. quindi questo per la corrente. Quindi capite che la conoscenza, vedremo poi l'interpretazione di questi dati, la conoscenza di questi fenomeni diventa importante. Siamo in un impianto residenziale. Quei 7 ampere che corrispondono praticamente a un kilowatt e quattro, se pensiamo di potenza attiva impegnata in quel momento, erano probabilmente utilizzatori di tipo lineare, mi viene in mente intorno a kilowatt, kilowatt e mezzo, o poteva essere acceso un ferro da stiro o qualcosa di questo genere, ma quello che sono certo quando è stato fatto il rilievo è che c'erano accese tutte le illuminazioni. Illuminazione che era prevalentemente LED, come attualmente si trova. Quindi quel fattore di distorsione che ci trovavamo in quel caso era dovuto praticamente all'illuminazione, mentre questo secondo caso lo sappiamo perché abbiamo acceso la pompa di calore con gli inverter, dovuta quindi all'azionamento dell'inverter per l'azionamento della pompa di calore. Come vedremo appunto lampade LED, quindi dove ci sono convertitori che portano alla tensione alternata continua o variatori di frequenza, per regolare la velocità e le coppie dei motori elettrici, appunto gli inverter, sono tra i principali generatori di armoniche. Entriamo adesso un po' più direttamente nella parte di elettrotecnica, un minimo di teoria per riquadrare quei concetti fondamentali e per non perderci perché ci troviamo poi anche a delle definizioni che, come vedremo, sembrano un po' in contrasto con quelle che sono le definizioni tra delle elettrotecniche classiche, in particolar modo il fattore di potenza, il power factor, che sembra la traduzione in inglese del fattore di potenza, ma in realtà hanno due significati fisici diversi. Aprendi ad arrivare a quello, diamo un attimo di interpretazione a questi grafici che vediamo. Partiamo dalla corrente continua, generatore di corrente continua, non siamo quindi in un regime alternato, prima di dire se sinusoidale o no, comunque un regime periodico, siamo in corrente continua, quindi in questo caso arriviamo subito al sodo, le armoniche non ci sono, ma come si comportano i nostri circuiti? Quando il nostro circuito è puramente resistivo sappiamo che abbiamo un legame perfettamente lineare tra la tensione e la corrente e è descritto dalla legge di Ohm classica che vedete tensione uguale al prodotto della resistenza per la corrente. E la potenza attiva, e abbiamo qui solo potenza attiva, definita con la lettera P in Italia, è data dal prodotto della tensione per la corrente. Quando abbiamo un carico induttivo, vi ritrovate la tensione che è definita come l'induttanza per la derivata della corrente rispetto al tempo, quando siamo in corrente continua, la variazione di corrente nel tempo è nulla, il di su di t è uguale a zero, di conseguenza quella tensione diventa nulla. Un induttore quindi in corrente continua si comporta come un corto circuito e in questo caso di potenza attiva non ne abbiamo ed è di nuovo uguale a zero. La stessa cosa, il circuito capacitivo con carico capacitivo è il duale del circuito induttivo, solo che al posto della della tensione uguale a zero abbiamo la corrente uguale a zero. Quindi il condensatore in corrente continua si comporta come un circuito aperto. Perché abbiamo parlato di resistenze induttori e condensatori? Perché sappiamo che nella nostra modellazione, in particolar modo delle linee elettriche e di molti carichi, possiamo assumere come un insieme opportunamente collegato, serie e parallelo, di resistenze, induttanze e capacità. Quando passiamo in corrente alternata sempre col carico resistivo, che cosa succede? Il carico resistivo mantiene la linearità tra la tensione e la corrente, solo che ora non siamo più in corrente continua ma siamo in corrente alternata. Abbiamo un generatore di tensione alternata che alimenta il nostro carico. La legge di Ohm è tuttora vera, nel caso puramente resistivo, quindi V uguale ad R per I. La potenza attiva viene definita come V per I per lo sfasamento, il coseno dell'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente, ma essendo in questo caso tensione corrente perfettamente in fase, lo vedete dal diagramma vettoriale, l'angolo tra la corrente e la tensione è nullo, quindi il coseno vale 1 e quindi è uguale a V per I. La potenza reattiva che è definita in corrente alternata e vale V per I per il seno dell'angolo di sfasamento, sempre in fase, l'angolo FI è 0 e il seno è uguale a 0, quindi non abbiamo potenza di tipo reattivo. Dal punto di vista del diagramma dell'andamento delle curve, vedete che la curva di corrente, questa in rosso, è perfettamente sinusoidale, il carico è resistivo e mantiene la linearità, quindi la tensione è perfettamente sinusoidale, anzi dovrei dire che siccome operiamo con un generatore di tensione, io genero una tensione perfettamente sinusoidale, quando collego un carico esclusivamente di tipo resistivo, la corrente che viene assorbita è perfettamente sinusoidale e perfettamente in fase con la tensione. Dal punto di vista della potenza attiva, che è l'unica ad esserci, vediamo che a questo andamento, tutto al di sopra del valore 0 delle correnti delle tensioni ed è a frequenza doppia e viene definita come la tensione massima per la corrente massima per il quadrato, anzi per il seno di 2 omega t, non è seno al quadrato, il 2 è il vostro seno di 2 omega t. Perfetto, se andiamo avanti nell'analisi dei circuiti che abbiamo fatto precedentemente in corrente continua, poi capirete perché facciamo questo tipo di analisi, abbiamo che nel caso del circuito puramente induttivo abbiamo che la potenza attiva è nulla perché in questo caso abbiamo che il seno dell'angolo tra tensione e corrente, scusate il seno, l'angolo tra tensione e corrente è 90 gradi nel caso del puramente induttivo come del resto nel puramente capacitivo, con la tensione e la terna ruota in questo senso, quindi la tensione in anticipo rispetto alla corrente, ma in questo caso che sia in anticipo o in ritardo non ci interessa, ci interessa soltanto dire che il coseno nell'angolo di 90 gradi è 0 e quindi la potenza è nulla, mentre sarà massima la potenza reattiva che vale in questo caso V per I, quindi in un circuito puramente induttivo nell'induttore viene immagazzinata una potenza reattiva che vale V per I per il seno di F, in questo caso V per I. Sempre in rosso vediamo l'andamento della corrente, la tensione che l'ha generata è sfasata di 90 gradi rispetto alla corrente e di nuovo a frequenza doppia la nostra potenza che in questo caso è la potenza reattiva. Il caso capacitivo è del tutto identico, vedete semplicemente che è ribaltato le potenze e in questo caso sia sempre, solo e soltanto potenza di tipo reattivo, di tipo capacitivo. Bene ma in realtà come dicevamo prima i nostri circuiti sono un insieme di resistenze, di capacità e di induttanze, poi in bassa tensione le capacità spesso sono in parte trascurabili sulle linee e i carichi sono tendenzialmente di tipo induttivo, omico induttivo più che omico capacitivo. In ogni caso, ritornando alla nostra elettrotecnica e disponendo le resistenze sull'asse reale, l'asse delle X e le reattanze siano SX, siano S capacitive o induttive lungo l'asse Y, abbiamo che l'impedenza non è altro che la diagonale di questo triangolo e l'angolo FI dell'impedenza è quell'angolo che si ha tra il vettore impedenza con l'asse reale dove è posizionata la resistenza. Quindi l'impedenza è definita come R più la parte immaginaria e X con X reattanza che può essere reattanza capacitiva o reattanza induttiva. Trovate poi la definizione delle reattanze capacitive in funzione dei parametri fisici, quindi è 1 di meno 1 diviso la pulsazione per la capacità e la reattanza invece di tipo induttivo è uguale alla pulsazione per l'induttanza del circuito, da cui le impedenze diventano queste. Dal punto di vista grafico non abbiamo più che lo sfasamento tra la tensione della corrente è pari ad un angolo di 90 gradi o un angolo nullo ma è pari ad un angolo FI. Vale poi lo stesso discorso che abbiamo già visto negli altri casi. Perché abbiamo fatto questa trattazione? Per ricordarci che le linee elettriche sono modellate a parametri concentrati e sono sostanzialmente un insieme di resistenze, induttanze e capacità. Poi se la linea è una linea che noi consideriamo di tipo corto diciamo, quindi con lunghezza inferiore vedete 80 km e con tensioni minori dei 66 kV, la parametrizzazione può essere quella che vedete in figura, quindi conduttore di fase su cui allocchiamo la sua resistenza chilometrica, la sua induttanza chilometrica e la rappresentazione termina in questo caso. Mentre se siamo su linee considerate lunghe, quindi L maggiore di 80 km e tensioni maggiore di 66 kV, abbiamo due modalità di rappresentare il nostro, la nostra rete a parametri concentrati, quindi con il modello P greco o con il modello T, di cui i componenti li vedete rappresentati hanno il significato che conosciamo. Questo ci serve perché capiremo che anche sulle linee le armoniche creano dei problemi e creano dei fenomeni che dobbiamo indagare. In sintesi, se pensiamo ai generatori di centrale, quindi i generatori sincroni tanto per intenderci, queste sono macchine che sono intrensecamente lineari, quindi generano una tensione perfettamente sinusoidale. I carichi che ci ritroviamo sul nostro impianto, se sono considerati resistori, condensatori, induttori e impedenze, quindi combinazione di quanto riportate, mantengono, abbiamo visto, la linearità tra la tensione e la corrente. Ci sono gli sfasamenti ma mantengono la linearità, quindi tenendo conto che anche la rete stessa è un insieme di resistenze e condensatori e induttanze, mantiene, in caso di regime sinusoidale del generatore, mantiene la linearità. Quindi per linearità, come vedete, si intende che il carico alimentato con una tensione perfettamente sinusoidale mantiene e assorbe una corrente perfettamente sinusoidale e di isofrequenziale. Sarà sfasata a secondo punto dell'angolo di sfasamento ma sarà dello stesso tipo, sinusoidale e sinusoidale e di stessa frequenza, quindi isofrequenziale. Le armoniche perché allora nascono? Cosa c'è di diverso? Le armoniche nascono perché sulla rete noi andiamo ad alimentare dei carichi che sono definiti non lineari, quindi questa definizione è come nasce. Si dice che un carico è non lineare quando alimentato con una tensione perfettamente sinusoidale ha dei dispositivi interni che fanno sì che la corrente assorbita dal carico non sia perfettamente sinusoidale e isofrequenziale con la tensione di alimentazione. Basta pensare a un raddrizzatore. Io prendo un raddrizzatore, lo alimento a tensione alternata, ma dentro ha dei dispositivi, i diodi in ponte a diodi in questo caso, perché deve erogare una corrente al carico di tipo continuo. Questa cambio di corrente tra l'ingresso e l'uscita del nostro raddrizzatore, che appunto la raddrizza come dice il termine stesso, genera, uso questo termine, una discontinuità nella forma d'onda della corrente. Questa discontinuità genera delle armoniche. A questo punto dobbiamo conoscere come si genera, ma quindi andare a capire quali sono questi dispositivi che possono produrre delle armoniche sugli impianti e poi andarle a misurare, misurare per andare a capire se provocano dei danni oppure possiamo trascurarli. Bene, entriamo più direttamente in quella che è definita l'analisi armonica. Immaginiamo di avere, vedete quel segnale in alto, questo, che è la nostra forma d'onda che ci possiamo ritrovare. Prendiamo per esempio che sia una forma d'onda di tensione, o meglio di corrente, perché generiamo noi normalmente una tensione sinusoidale. Ci ritroviamo questa forma d'onda, un po' come quella che abbiamo visto sull'oscilloscopio. La teoria cosa ci dice? Prima di tutto che possiamo individuare una cresta, ovviamente questa è la cresta positiva, questa è la cresta negativa, e anche un valore efficace che adesso vedremo come andare a misurare. Ma quello che ci dice la teoria e in particolar modo il teorema di Fourier, ci dice che se siamo in presenza di un segnale di tipo periodico, eccoci qua, questo è tipo periodico perché ha questo periodo da qui a qui e poi si replica esattamente uguale. Quindi se siamo in presenza di un segnale distorto quanto vogliamo, ma di tipo periodico, esso può essere rappresentato dalla sommatoria di un segnale che ha la stessa frequenza, quello stesso periodo del segnale iniziale, più una somma di sinusoidi, tutte a frequenza multipla intera della frequenza del segnale che le ha generato. Nel caso specifico, se supponiamo che questo segnale globale, come vedete, abbia la frequenza di 50 Hz, quindi abbia un periodo di 20 millisecondi, ecco che abbiamo la prima sinusoide che viene detta sinusoide fondamentale o di ordine 1, vedete H1, è di ordine 1 e poi abbiamo una terza armonica, quindi un multiplo intero della fondamentale che era 50 Hz, vedete infatti a 150 Hz, poi abbiamo una quinta armonica, una settima, una no. Se noi andiamo a prendere punto per punto, per esempio questo punto qua, calassi la mia verticale perfetta, questo punto qua nasce dalla somma di questo punto, più questo punto, più questo punto che diventa negativo, vedete, più questo punto, eccetera, eccetera. Sommando tutti gli infiniti punti su quella verticale, io di tutte, diciamo, queste sinusoidi perfette, vado a ricostruirmi questo segnale globale. Ecco, quanto ho detto, lo trovate scritto qui sopra, e quello che faccio notare è che questo è il teorema di Fourier in forma matematica, ci dice che una funzione variabile nel tempo, in modo periodico, y di t, può essere rappresentata come un valore di una componente continua, perché potrebbe esistere anche una componente continua, che mi trasla, se torno alla slide precedente, non farebbe altro che spostarmi questo asse rispetto, per esempio, un po' più su. È una componente continua, ma manterebbe inalterato la forma d'onda del mio segnale. Quindi, componente continua, se c'è, più la sommatoria da 1, fondamentale, a n, con n tendente a infinito, più ovviamente mi distanzio, più la ricostruzione, più vado verso infinite armoniche, la somma di infinite armoniche, più ricostruisco il segnale distorto in modo perfetto. della nostra armonica valore efficace della componente ennesima, per la radice 2 di seno di n omega t meno phi n, dove n è l'ordine di armonicità, omega è la pulsazione fondamentale, e phi n è lo sfasamento della componente armonica al tempo t uguale a 0. Se si mette n uguale a 1, si ha la componente fondamentale che dicevamo. Quando passiamo dal dominio del tempo, cioè dalla rappresentazione del segnale come forma d'onda che abbiamo visto, al dominio, si dice, delle frequenze, quindi al dominio delle armoniche, passiamo da questo grafico a quest'altro grafico, che è noto come spettro delle armoniche, perché è molto utile lo spettro delle armoniche. Perché, a occhio, quando guardiamo sullo sceloscopio questo segnale, possiamo capire che ci sono delle armoniche, perché lo vediamo periodico e distorto rispetto alla sinusoidale. Ma sappiamo darne un peso? No. Mentre quando andiamo a guardare lo spettro che ci viene fornito, vediamo subito che c'è una prima armonica, perché ha la frequenza di 50 Hz come questa, una terza armonica, una quinta armonica, eccetera, eccetera, e la prima pesa 100, questa il 75, questa intorno al 40, 30, 40, sì, più o meno, insomma, scende. Quindi abbiamo i pesi delle armoniche all'interno del nostro segnale. Cosa succede alle nostre linee? Immaginiamo di alimentare un carico non lineare. Immaginiamo che la nostra linea, come abbiamo visto, è strutturata con un'impedenza, la rappresentiamo con un'impedenza che abbiamo visto mantiene la linearità tra tensione e corrente, ma cosa succede? Succede che nel momento in cui io vado ad alimentare il mio carico, attenzione che in partenza è sinusoidale, il carico mi assorbe una corrente non più sinusoidale, perché è un carico non lineare. Nel ritorno della corrente non lineare va ad allocarsi su un'impedenza, la quale non altera il formato della corrente, dicevamo, ma il prodotto corrente per impedenza è proprio la tensione, e guarda caso è la tensione armonica dell'armonica, in questo caso H. Ci sarà quindi una tensione armonica H1, H2, H3, H4, per tutte le ordine di armonica. Queste tensioni si sommano alla nostra tensione sinusoidale generata e di conseguenza mi rendono anche la tensione di quella linea, in particolar modo in B, non più lineare, deformata. Quindi ogni apparecchio, oltre il carico non lineare, che sarà attaccato da questa parte, risulterà alimentato da una tensione non lineare, e quindi affetto da armonica, che anche se lui è lineare, potrebbe non funzionare più correttamente. Questo è semplicemente il circuito scomposto in base alla teoria di Fourier, quindi partendo dal carico non lineare e dalla nostra linea, questo sarà scomposto in un circuito, questo lineare a questa volta, perché è alimentato sinusoidale a 50 Hz, con la nostra impedenza di ordine 1, e calico non lineare e somma di N circuiti, tutti con correnti armoniche e impedenze armoniche, che daranno origine a tensioni armoniche, secondo la legge di Ohm, quindi VH uguale a ZH per IH. E quindi questo per far capire che possiamo scomporre il nostro circuito in una serie di circuiti, tutti sinusoidali, ma con ordine di armonicità diverso. La loro somma ovviamente dà la tensione armonica. In un impianto generale, come possiamo vedere questo, con un trasformatore MTBT, un gruppo generatore, anche un gruppo di condensatore per il rifasamento, e supponiamo di alimentare tutti quei carichi che vedete, di cui i primi quattro sono carichi non lineari, quindi raddrizzatori, forni ad arco, variatori di velocità, lampade fluorescenti, apparecchi a corrente raddrizzati. Qui in fondo abbiamo, ma non in fondo potevano essere messi in qualunque parte dell'impianto, dei carichi che definiamo lineari, quindi che non creano armoniche. Che cosa succede? Supponiamo in un ipotetico istante iniziale di essere alimentato in corrente con tensione perfettamente sinusoidale e la corrente rimane sinusoidale fino a che non arriviamo ai carichi non lineari. I carichi non lineari assombrano la corrente sinusoidale all'inizio, la trasformano per i dispositivi interni e ci ritorna, ovviamente, ci ritorna armonica. Questa era un'armonica A, B, C e D a dire e a continuare. Queste correnti si sommano ai nodi su questa barra, anche questa corrente ritornerà ma sarà di tipo lineare e su questa barra le correnti si sommano e per via dell'impedenza di linea ritorna una tensione perturbata che poi, considerando che il trasformatore, possiamo considerarlo un induttore perfetto o al massimo un'impedenza, una parte resistiva bassissima, mantiene, se vogliamo, la linearità e quindi mantiene la tensione perturbata che risale verso altri utilizzatori. Questo è il motivo per cui dobbiamo cercare di ridurre, quando facciamo le armoniche, nel punto più vicino, per evitare che queste si propaghino all'interno dell'impianto, perché si propaghino proprio sfruttando l'impedenza della linea. Bene, ora analizziamo gli indici, gli indici di misura che ci possono essere utili per valutare il fenomeno delle armoniche e poi prendere i provvedimenti. Gli indicatori principali sono il fattore di potenza, il fattore di cresta, lo spettro di frequenza, la potenza di distorsione e il tasso di distorsione. In particolare direi che quelli più importanti sono comprendere bene come lavora il fattore di potenza in modo da distinguere, e qui è forse un po' più teorica, ma di distinguere il cos phi, io preferisco chiamarlo cos phi, quindi lo sfasamento della tensione al corrente e il fattore di potenza, che è di nuovo lo sfasamento della tensione al corrente, ma in un regime armonico, non in un regime perfettamente sinusoidale. E poi potenza di distorsione, perché come vedremo è una rescrizione del teorema di Boucherot, e tasso di distorsione armonica, cosetto THD, che è quello in tensione al corrente, quello che si usa poi praticamente per avere subito una percezione del fenomeno. Bene, come dicevamo all'inizio, fattore di potenza, power factor. Noi siamo abituati a definire, come vedete qui sotto, il cos phi fattore di potenza, e quindi uno direbbe che tra fattore di potenza e power factor, PF, non siano la stessa cosa. In realtà la definizione è proprio, se vogliamo, di lana caprina, nel senso che noi siamo sempre abituati, noi elettrotecnici, a considerare tutti i fenomeni di tipo sinusoidale, quindi praticamente ad avere che la nostra tensione e corrente coincidono proprio con l'armonica fondamentale di ordine 1. Quindi non hanno altre armoniche se non il 100% diciamo di se stessi. L'onda sinusoidale perfetta coincide con la sua armonica fondamentale, e le altre armoniche non ci sono. Quindi il cos phi lo possiamo definire, come vedete qua, come il rapporto tra la potenza attiva della nostra armonica 1 e la nostra potenza apparente dell'armonica 1. Invece il power factor viene definito, come vediamo qui sopra, come il rapporto tra tutta la potenza attiva, e poi adesso ci entreremo nel dettaglio, rispetto a tutta la potenza apparente. Vedete che non è riferito all'armonica di ordine 1. Il risultato finale è che il cos phi è sempre riferito alla fondamentale, quindi in presenza di armoniche, quindi quando consideriamo tutte le altre, abbiamo che il cos phi sarebbe solo quello della fondamentale, e quindi è diverso dal power factor, che invece le considera tutte. E quello che succede è che il power factor, quindi il nostro fattore di potenza e presenza di armoniche, è sempre inferiore allo sfi, quindi allo sfasamento che abbiamo nel regime perfettamente sinusoidale. Adesso poi vedremo anche di dettagliarlo meglio. Il fattore di cresta è il rapporto che si ha tra il valore massimo, Im, rispetto al valore efficace, If. Sappiamo che per sinusoidi pure il fattore di cresta vale radice di 2, 1.41, mentre per i segnali distorti quel k è maggiore di 1.41, in particolare in genere oscilla, come vedete sotto, tra 1.5 e 5 volte. Che cosa vuol dire questo? Se abbiamo presente, credo la seconda immagine dell'oscilloscopio, che possono essere dei picchi di corrente elevati, pur avendo un valore efficace basso. Se abbiamo presente il valore efficace di quella corrente che vedevamo nel secondo schermato dell'oscilloscopio, era 20, e abbiamo trovato invece un valore di cresta pari a 50, quindi più del doppio di 20. Quando, se fossimo stati in regime sinusoidale, dicevamo 1.41, quindi 1.4, non 2. Ecco, in quel caso appunto era 2.5, quindi se facciamo 50 con 20 era 2.5. Come vedete quindi cosa succede? Che l'utenza collegata a valle avrà dei picchi, potrà subire dei picchi, e quindi dei sovraccarichi di corrente, ogni ad ogni semionda. Questo può, come potete ben capire, provocare anche un intervento intempestivo delle protezioni. Tasso di distorsione armonica. Tasso di distorsione armonica individuale. Come si calcola? Si calcola prendendo il valore dell'armonica achesima di tensione o di corrente, e lo rapportiamo al suo valore della fondamentale in termini appunto efficaci, e poi moltiplicato per 100. Quindi il tasso armonico individuale in tensione sarà dell'armonica H, sarà VH diviso V1 per cento e per la corrente IH diviso I1 per cento. Questo più o meno l'abbiamo visto. Quando vado allo spettro di frequenza, immaginiamo di avere quel segnale visualizzato sullo oscilloscopio, quindi nel dominio del tempo, come si dice, che ha questo tipo di andamento, e abbiamo il rispettivo spettro armonico, quindi nel regime delle frequenze, e questo ci permette di individuare che in questo caso specifico sono presenti la fondamentale sempre è l'armonica di terzo ordine e di quinto ordine, e rispettivamente con il peso del 33% per la terza e del 20% per quanto riguarda la quinta. Quindi in questo caso sappiamo anche se dovessimo prevedere un eventuale abbattitore di armonico, un filtro, bene, sappiamo che questo dovrà lavorare sulla terza e sulla quinta armonica, e quella preponderante in questo caso è la terza. Valore efficace, è possibile definire valore efficace anche in presenza di armoniche? Assolutamente sì, sia ovviamente per la corrente che per la tensione, e nella fattispecie è definito come la radice quadrata della sommatoria di tutte le armoniche, quindi a partire da 1 all'infinito, elevato al quadrato. Quindi nel caso della corrente, come vedete, è l'armonica achesima elevata al quadrato con quell'h che parte da 1 all'infinito, il tutto sotto radice quadrata. Quindi sarà la i2 al quadrato più la i3 al quadrato più la i4, se dovessimo valutarla rispetto a questo, noi saremmo in presenza di una i3 al quadrato più una i5 al quadrato, il tutto sotto radice quadrata. Ok? Lo stesso discorso per quanto riguarda la tensione. Tasso di distorsione armonica, eccolo qua, il THD che dicevamo che ci consente di fare le prime valutazioni. Questo è definito anche da una norma CEN, che vedete la 61.0002,2 e ci dice che il tasso di distorsione armonica vale come la radice quadrata delle armoniche al quadrato di ordine h con h che parte da 2, perché la fondamentale la lascia fuori, rapportato proprio al valore della fondamentale. Y1. Se poi lo valutiamo per 100, questo valore, abbiamo il tasso, il TDH percentuale, THD, scusate, percentuale. Ecco, la norma ci aggiunge anche che il calco per gli effetti impiantistici si può limitare alla cinquantesima armonica, quindi con h uguale a 50, oltre diventa una precisione che è praticamente impercettibile e non serve a nulla negli impianti reali. L'uso del THD ci permette di avere un solo numero che ci dà per subito e immediatamente un indice della deformazione dell'onda che stiamo considerando. Ovviamente il THD può essere maggiore di 1. Entriamo adesso nella valutazione delle potenze, quindi che cosa succede? Cosa succede alle nostre potenze quando siamo in regime deformato? Quindi anche in questo caso dobbiamo definire una potenza attiva e una potenza cattiva. Poi sappiamo che la potenza apparente è uguale al quadrato e uguale alla potenza attiva al quadrato più la potenza cattiva al quadrato. Andando a considerare lo sviluppo armonico, tenendo presente che la potenza attiva di un segnale in regime sinusoidale era V per I cos phi, qui ci ritroviamo ad avere una V0, perché abbiamo visto per lo sviluppo di Fourier che potrebbe avere una componente continua, più la sommatoria di tutte le armoniche moltiplicate tra di loro di tensione corrente per il loro corrispettivo cos phi. Quindi si sarà quella V1H1 cos phi1, più V2H2 cos phi2, più V3 cos phi3H3, eccetera, eccetera. Nel caso della potenza reattiva, stesso discorso, ma al posto del coseno di phi abbiamo il seno di phi. Ora passiamo appunto a considerare la potenza apparente. Potenza apparente vi ho detto che poteva essere calcolata, il teorema di Boucherot, come A al quadrato uguale a P al quadrato più Q al quadrato. Ma è anche il prodotto diretto del valore efficace di tensione per il valore efficace di corrente. Quindi se teniamo presente come era definito il precedentemente valore efficace di tensione di corrente, vado a fare quel prodotto tenendo anche presente l'eventuale componente continua, quindi la tensione, il valore efficace di tensione è V0 più la sommatoria da 1 a N della VK al quadrato sotto radice quadrata e lo stesso dicasi per la corrente. Quel prodotto mi porta a dire, facendo i conti e sviluppandolo, che A al quadrato non è effettivamente uguale a P al quadrato più Q al quadrato. O se trasporto tutto da una parte, tutto a sinistra dell'uguale, mi risulta che A al quadrato meno P al quadrato, c'è un errore, chiedo scusa, è meno P al quadrato, la parentesi più Q al quadrato a questo punto, è diverso da 0. Quindi essendo diverso da 0, vado a definire una quantità, vado a porre una quantità detta potenza deformante D, tale per cui sia D al quadrato uguale a proprio quella differenza tra la potenza apparente al quadrato meno, qui è scritta giusta, la potenza attiva più la potenza reattiva, entrambe al quadrato. Facciamo ulteriori approfondimenti, perché poi avviciniamoci un po' più alla pratica che andiamo ad incontrare. Generalmente noi partiamo con una tensione che è di tipo sinusoidale, potrà essere distorta, però distorta come abbiamo visto anche nell'ipotesi casalinga a 6 kilowatt, il fattore di distorsione armonica della tensione era abbastanza basso. Quindi possiamo considerare un'alimentazione pressoché sinusoidale. In questa ipotesi semplificativa, però abbastanza reale, andiamo a vedere come possiamo definire di nuovo la nostra potenza apparente al quadrato. Questa è data dalla sommatoria, come abbiamo visto, da 1 a n della armonica capesima di tensione al quadrato per lo stesso discorso per la corrente. Ma a questo punto, andando a svolgere il calcolo, tenendo presente che la tensione, l'abbiamo detta pressoché sinusoidale, quindi coincide con la sua armonica fondamentale di ordine 1, quella e il resto delle armoniche sono nulle, in questo caso voglio dire attenzione pressoché sinusoidale, non ha le altre armoniche oltre l'ordine 1, la posso tirare fuori dal seno di sommatoria, perché sarebbe V1 più la V2 che è 0, più la V3 che è 0, più la V4 che è 0, eccetera, eccetera. Quindi si semplifica andando a dire che è uguale a V1 al quadrato per la sommatoria delle armoniche di corrente. Sviluppando ulteriormente quella sommatoria, quindi mi risulta che V1 per la prima armonica di corrente, mi dia V1 al quadrato per I1 al quadrato, più la V1 al quadrato per tutte le sommatorie delle altre armoniche, a partire dalla seconda, sempre al quadrato. Ma V1 al quadrato più I1 al quadrato è la potenza apparente dell'armonica di ordine 1, della fondamentale, e quindi è quella al quadrato 1. Il resto, quindi il prodotto della V1 al quadrato, quindi della fondamentale di tensione al quadrato, per tutta la sommatoria delle armoniche, è proprio la nostra D al quadrato. A questa, quella che abbiamo definito essere la potenza deformante. Prima abbiamo visto in formato generalizzato, questa è più applicata ai casi più reali degli impianti elettrici. Quindi risulta che la nostra potenza apparente della fondamentale è uguale a V1 al quadrato più I1 al quadrato, e la D al quadrato è la V1 al quadrato per la sommatoria di tutte le altre armoniche. In definitiva, vedete le annotazioni, mi interessa in particolar modo la seconda, la potenza deformante D non fornisce un contributo alla potenza attiva, quindi non ci genera lavoro questa parte di potenza attiva, ma si configura proprio come una potenza che fluttua, che si aggiunge alla potenza reattiva dovuto allo sfasamento tra la fondamentale di tensione della fronte e la fondamentale di corrente. Il teorema di Boucherot quindi si cambia, se vogliamo, si cambia e diventa quella potenza apparente globale, quella A al quadrato, è uguale alla potenza attiva della fondamentale di ordine 1 al quadrato più la potenza reattiva della fondamentale al quadrato più la potenza deformante. Ora, se poi siccome D, la potenza deformante, non fornisce alcun contributo alla potenza attiva, ma fluttua solo sulla potenza reattiva, possiamo dire che la potenza attiva P totale coincide con la potenza fornita dalla fondamentale, alla frequenza tra l'altro della fondamentale. E quindi, in ultima analisi, la nostra potenza apparente del nostro impianto è uguale alla totale della potenza attiva al quadrato che coincide con quella di ordine 1 più la potenza reattiva della fondamentale più la potenza distorcente di A al quadrato, ma è sempre. In ultima analisi, che cosa succede? Che in presenza di una tensione sinusoidale non distorta, le armoniche di corrente, di qualunque ne sia l'ordine, non generano potenza, vanno solo sulla potenza distorcente. Nella pratica, tenendo conto che come abbiamo detto, in grandi linee, è proprio così ed è verificata dalle verifiche sperimentali, anche se non coincide con la realtà matematica, ma con la realtà pratica sì, è assimilabile e approssimabile a quanto abbiamo visto. Il caso più generalizzato, chiaramente ci va a considerare una potenza attiva P, che è data dalla componente continua se c'è, della potenza attiva, quindi una P0, che è una V0 per un I0, più la sommatoria che abbiamo già visto. Cosa succede però? Che i prodotti tensione e corrente, di stesso ordine, quindi ordine 2, 3, eccetera, sviluppano potenza attiva e la loro somma definisce comunque le perdite dovute all'armonico. Quindi, quella potenza attiva di ordine H, se possiamo definirla, quando appunto non andiamo a fare questa semplificazione o considerando pure la semplificazione, ma sappiamo che c'è un tasso di distorsione armonica sulla tensione basso il 1%, il 2%, avremo quindi dei prodotti tra armonica di tensione e armonica di corrente. Queste non generano però potenza attiva, ma generano una potenza di tipo attivo, ma che non contribuisce al lavoro meccanico, ma fornisce le perdite che si sviluppano all'interno del nostro sistema, siano esse parecchi che linee di potenza. Quindi, motivo per cui bisogna appunto conoscere e valutarne il peso. In questo caso, come si comporta anche il il cost fee, quindi lo sfasamento che noi siamo abituati ad utilizzare nel caso del regime perfettamente sinusoidale per valutare a partire la potenza apparente la nostra potenza attiva. Sappiamo che ora dobbiamo ragionare in termini di power factor in questo caso. abbiamo visto che nel caso del regime con tensione diciamo pressoché sinusoidale la nostra potenza attiva totale coincide con la potenza dell'armonica di ordine 1 da cui la P1 di cui vedete di sopra B1I1 cos phi1. Il power factor invece è P diviso A ma siccome P abbiamo detto essere coincidente con la P1 cosa risulta? B1I1 cos phi1 fratto la potenza apparente che abbiamo già visto essere V1 perché la V abbiamo detto essere sinusoidale quindi coincidere sempre con la sua fondamentale più il valore efficace a questo punto della corrente che invece avrà la somma di tutte le sue armoniche tenendo conto appunto che vedete che la I1 sulla I efficace vale proprio quel 1 fratto U sotto radice 1 più il totale distorsione armonica di corrente elevata al quadrato. alla fine fate le sostituzioni e debite e sostituzioni cosa risulta? Che il power factor è uguale al cos phi della fondamentale fratto la radice quadrata di 1 più il fattore di distorsione al quadrato. Se lo andiamo a rappresentare nel grafico vedete che solo nel caso di distorsione armonica uguale a 0 il cos phi e il power factor coincidono ma appena ci spostiamo appena quando abbiamo un tasso di distorsione armonica per esempio di corrente del 50% abbiamo visto trovare 58 quando abbiamo fatto l'esempio di prima ecco che il nostro power factor si è abbassato ed è arrivato a 0 quindi sostanzialmente a pari dovessi dire e semplificare a pari potenza attiva che io come se mi aumentasse cos phi il vecchio cos phi diciamo quindi a pari potenza attiva necessaria dovrà funzionare a carico il power factor si è portato 0 8 assorbo più corrente devo assorbire più corrente ok facciamo adesso delle osservazioni a questo punto sugli indicatori abbiamo detto che generalmente negli impianti ci ritroviamo con attenzione che rimane pressoché sinusoidale e abbiamo detto che sperimentalmente abbiamo verificato più volte questa situazione che vuol dire che il THD di tensione deve essere abbastanza basso e infatti che cosa ci dice cosa ci dicono le norme in questo caso più che le norme le osservazioni che se il THD di tensione è minore del 4% è un valore che possiamo considerare normale quindi non mi porta a tante perdite come dicevamo quindi non è necessario prendere provvedimenti e non insorgono problemi di funzionamento tra il 4% e l'8% con la logica dei semafori vedete che diventa arancione è un valore che è da considerare in cominciare a considerare lo anomalo l'impianto è caratterizzato da una forte distorsione armonica quindi dal 4% all'8% di tensione e è già considerato una forte distorsione armonica perché abbiamo visto che la tensione genererebbe tutte quelle parti di potenze disperse e sopra l'8% attenzione l'impianto è caratterizzato da una fortissima distorsione armonica diventano probabili non più possibili ma probabili ma a funzionamenti di apparecchiature e bisogna fare un'analisi armonica per capire se e dove vengono generate le armoniche quindi per la tensione THD di tensione minore del 4 ok tra il 4 e l'8 dobbiamo guardare sopra l'8% dobbiamo per forza guardare per le correnti la situazione vedete che è diversa quindi si alzano i valori perché abbiamo visto che nel caso di tensione pressoché sinusoidale i prodotti tensione per corrente per erodiamo non danno contributi non danno contributi quindi se THD di corrente è minore del 10 lo possiamo considerare se sta tra il 10 e il 50 è anomalo dobbiamo andare a fare delle analisi sono possibili dei surriscaldamenti delle linee di alimentazione e quindi dobbiamo valutare se e quanto sovradimensionare il condotto quando siamo in presenza di fattori di distorsione armonica superiore al 50% in corrente la situazione di distorsione armonica in corrente è fortissima probabili malfunzionamenti significativi si rende per forza necessario una misa approfondita quindi andiamo a considerare a questo punto i nostri indicatori il fattore di potenza il PF rappresenta quindi un ulteriore sfasamento rispetto alla fondamentale COS-FI l'abbiamo vista prima il 50% vale 0,8 quindi mi ha abbassato il COS-FI quindi dobbiamo conoscerlo per valutare l'eventuale sovradimensionamento delle linee di alimentazione dell'impianto è come se avesse un COS-FI addizionale sostanzialmente lo spettro delle armoniche dobbiamo conoscerlo perché rappresenta la scomposizione in frequenza del segnale e quindi permette non solo di vedere le armoniche con il loro peso ma offre anche immediatamente una valutazione di quali provvedimenti dovrei andare a prendere su quale ordine di armonica il fattore di cresta che abbiamo visto rappresentare il valore di cresta di un'onda rispetto al suo valore efficace serve per capire nello caso specifico della corrente se questa avrà un picco esagerato o eventualmente molto alto che potrà creare dei problemi alle sorgenti di alimentazione in particolar modo per esempio alle all'utenza informatica che hanno esigenze di alimentazione ben continua nel senso che con una forma d'onda ben definita e stabile tanto è vero che si usano anche gli UPS al di là della quantità di servizio proprio per ricostruire delle forme d'onda molto stabili cosa ci dice la nostra norma di riferimento per gli impianti di bassa tensione a 64.8 in particolar modo nel punto 524.2 dimensionamento del conduttore di neutro ci dice che nei circuiti in cui il tasso di correnti armoniche di ordine 3 è multiplo della fondamentale quindi la 9 la 15 la 21 se è compreso tra il 15% e il 33% il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase mentre noi sappiamo che per conduttori superiore ai 35 milimetri quadri potremmo dimensionare il conduttore di neutro a metà del conduttore di fase nei circuiti dove il tasso di armoniche di ordine 3 e multiplo dispari di 3 è maggiore del 33 addirittura può essere necessario aumentare la stessa del conduttore di neutro rispetto a quella di fase se andiamo a considerare tutte quelle armoniche nella situazione che vedete potrebbe essere dimensionato per portare una corrente di 1,45 volte quindi 45% in più della corrente di linea B della IB che passa nella linea di fase con questo ho concluso la prima parte vi ringrazio per l'attenzione resto disponibile per le domande del caso e vi do già sin d'ora appuntamento alla seconda parte tra una quindicina di giorni più o meno dove invece andremo ad analizzare i fenomeni che le armoniche producono sui vari dispositivi resto in attesa di vostre domande grazie c'è una domanda allora vedo tante domande adesso per le slide compresa la registrazione del webinar la potenza attiva delle armoniche diverse dalla fondamentale è trascurabile ma non nulla perché costituisce una perdita certo costituisce una perdita soltanto tra l'altro la potenza che abbiamo tra le armoniche di tensione quelle incrociate chiedo scusa quindi tra quelle tra l'armonica di tensione di ordine due e la corrente di ordine per esempio tre queste tutte queste interarmoniche costituiscono la potenza dispersa mentre tutte le potenze tutte le armoniche quindi supponendo che vi siano tutte presenti è come dicevamo la V1 per la I1 la V2 per la I2 la V3 per la I3 vanno tutte a contribuire sì alla potenza attiva il problema è che il loro contenuto è basso in termine in termine di valore quindi supponendo come dicevamo che la tensione sia fatta solo dalla fondamentale in questo caso è chiaramente la V1 per la I1 perché poi la V2 sarebbe nulla la V3 sarebbe nulla e la V4 sarebbe nulla e quindi il prodotto di queste interarmoniche con le correnti armoniche che invece esistono tutte sarebbero moltiplicate con una tensione nulla e quindi non ci sono proprio mentre se ho altri valori come bassi quanto vogliamo la V2 è la V2 per la V2 per la I2 che viene sommata la V1 per la I1 e quindi contribuisce alla potenza attiva ma la V2 per la I3 è ancora una potenza attiva ma contribuisce alle perdite un'altra domanda dovremmo valutare la presenza di armoniche e la loro influenza su ogni circuito allora no diciamo che potrebbe essere se proprio vogliamo essere più che premuniti su eventuali problematiche nel momento in cui dovessi mettere in funzione un impianto andrà a fare una misura veramente a monte di tutto diciamo a livello del contatore o a livello della connessione prima del trasformatore cioè sul lato di bassa del trasformatore di media tanto per intenderci andrà a fare una verifica di se ho dei tassi ammonici che ricadono dei THD che ricadono in quelli che abbiamo visto se mi ritrovassi in quel discorso quindi avere una THD di tensione tra il 4 e l'8 e tra il 30 e il 50 per quanto riguarda la corrente beh dopo dovrei procedere a scendere verso valle per capire quali sono le linee che lo generano e poi andare ad agire ad agire lì diversamente questo proprio direi in fase quasi preventiva normalmente cosa succede? succede che quando incominciano ad esserci degli scatti intempestivi o altre anomalie si procede all'analisi e in questo caso procederebbe allo stesso modo in cui ho indicato si parte dal generale e si fa la prima misura e poi si devono battere tutte le linee per andare a capire dove può essere generata tenete presente che su un impianto molto ad albero molto diramato quando andiamo a fare la misura al punto di consegna ho una forte sovrapposizione degli effetti quindi potrei avere poi sulle altre linee su tutte le altre linee dei contributi di correnti e tensione armonica ma magari prese se stanti tutte piuttosto basse quindi dobbiamo solo domandarci a questo punto la reiezione che noi abbiamo verso monte quindi verso l'interrogatore di questo tasso armonico in quel caso sempre con l'analisi armonica si può prevedere un filtro ma messo praticamente a monte serve più a tutelare il lente distributore a questo punto viceversa se invece troviamo dei rami che sono generatori preponderanti del contenuto di armoniche è in quel punto lì che noi andiamo a provvedere con dei filtri e vedremo la prossima puntata a provvedere con dei filtri all'eliminazione o alla soppressione di queste armoniche bene non vedo altre domande vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra una quindicina di giorni per la seconda parte di questo webinar grazie a tutti grazie a tutti